Ciao a tutti, come avrete sentito il Comitato Olimpico di Tokyo 2020 ha deciso di spostare di un anno le Olimpiadi. Decisione saggia, decisione rispettosa, decisione assolutamente condividibile dal sottoscritto perché credo che di fronte ad un'emergenza sanitaria come quella che stiamo vivendo in questi giorni non c'era altra decisione. Lo sport si deve assolutamente fermare e sono orgoglioso che il mondo a cinque cerchi abbia preso questa decisione. Grazie